Terzo nucleo. La dualità. Il discepolo incontra il concetto della dualità che scaturisce dall'osservazione del circostante e della propria interiorità. Questo riconoscimento genera anche conflitto, la separazione interiore tra ciò che è bianco e ciò che è nero. La differenza va infatti resa nota al sé, va incontrata, ma anche ricomposta e abbandonata. Si riproporrà in eterno, ma la ricomposizione a livello del sé è fondamentale per evitare lacerazioni permanenti dell'io. Infatti, un lavoro incompleto, con caratteristiche di doppiezza dei significati non chiaramente riconoscibili, può andare a discapito dell'unità interiore. Classico è il caso in cui sequenze di dualità vengano reiterate senza che possano essere riconosciute in quanto tali, ma travestite nel processo di acquisizione da certezze senza fondamento. Eclatante esempio è possibile riconoscere nella nostra interazione quotidiana con i bambini, nella quale, per necessità di semplificazione o per celare nostri momenti di crisi e di difficoltà, mascheriamo consapevolmente i problemi con l'informazione contraria. Vogliamo che per loro vada sempre tutto bene, per il loro bene, pensiamo. Ma soffermarsi a riflettere su quale sia il messaggio che stiamo trasferendo in profondità aiuta. I bambini sono essi stessi radar sofisticatissimi, hanno percezione di massima di tutto quanto li circonda. La loro interiorità non cristallizzata, irrigidita o mascherata consente loro di avvertire minimi dettagli e variazioni comportamentali, vibrazionali, sensoriali. Pertanto, immaginare di travestire una nostra difficoltà o incertezza o defiance rimane una nostra pura illusione. Essi udranno dalle nostre labbra alcuni dati rassicuranti di conforto, ma avvertiranno nel substrato della propria interiorità profonda che qualcosa di diverso sta accadendo. Pertanto, proporre loro la dualità come mascheratura di una verità difficile non gioverà. Al contrario, costituirà la base del conflitto interiore o della necessità della scelta forzata. Mentre il conflitto va compreso, affrontato e risolto con profonda consapevolezza, senza paura e soprattutto non coltivando la presunzione che menzogne di superficie possono guarire malanni profondi. Quindi la comprensione profonda della scelta, che non deve produrre il conflitto interiore, viene considerata una quota della consapevolezza necessaria, il riconoscimento di una verità anche nel caso in cui non sia gradita. Pertanto la conoscenza della dualità semplificata, cioè vissuta e trasformata, si raggiunge attraverso l'aggancio della propria coscienza autentica, vale a dire che il principio secondo il quale la trasformazione ha luogo nel vaso dell'esistenza conscia è verità, mentre non è verità che possa essere esperita in una posizione di difesa, lontana dall'esistenza attiva, condotta nella passività o subita o tiepidamente prudente. A questa fase succede quella del rafforzamento del sé, l'integrazione delle parti che compongono l'unità e tutte le parti che convergono verso un'unità di comportamento, concetto molto più ampio del semplicistico richiamo alla coerenza, spesso solo formale. Si tratta infatti di non perdere la contemporanea conoscenza delle diverse forze in campo, le variabili. Il campo è inizialmente del sé. Successivamente diviene l'esistenza nella sua complessità. Unità di comportamento è il continuo rifluire delle energie mentali superiori coordinate nella focalizzazione di quanto accade dentro e fuori da noi. È il non abbassare mai la guardia con se stessi, il non mentirsi pur di rimanere fermi su una posizione, l'accanimento, la testardaggine, l'ottusità e la mancanza di modesti e riflessione che consentirebbe di riconoscere tutto ciò. L'unità di comportamento infine è l'incedere nell'esperienza della vita con passo deciso ma leggero, determinato ma non testardo, lucido e sensibile, sempre disposto a riconoscere le ragioni dell'altro pur mantenendo la libertà di pensiero e comportamento. Evitare l'autocompiacimento, l'autocomiserazione e l'indulgenza verso se stessi. Ascoltare il richiamo del maestro anche quando usa il bastone del risveglio. Questo processo di distillazione del sé, anche attraverso esperienze dure, fortifica la qualcosa deve indurre ad una maggiore attenzione e non alla certezza della forza raggiunta. Quella forza va sempre sottoposta al vaglio del lucido pensiero, in quanto sentendosi forti ed essendo a questo punto anche influenti per carisma, si possono fare danni. Si può pensare di essere divenuti maestri, di aver concluso il sentiero sottile, di essere maturi per agire verso gli altri con superiorità. Questo è il limite, la parte di ombra, la semplice illusione che conduce ad azioni di pericolo per mancanza di lucidità. La vera strada è sempre quella dell'autodisciplina e della cautela, nel giudizio e nell'approccio. Ciò è propizio al mantenimento dell'equilibrio.